Buongiorno, bentrovati alla nostra rassegna stampa. Mattino 6, come sempre, inizia dalle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli nazionali. E dunque iniziamo dal centro, edizione di Pescara, il titolo di apertura che poi vedremo uguale per tutte le edizioni provinciali. Virus, misure straordinarie, gli scienziati, anziani a casa, niente strette di mano e saluti a distanza in tutta Italia. Ha proposto al governo anche lo stop di 30 giorni a tutte le manifestazioni pubbliche. E poi andiamo a vedere gli sviluppi in Abruzzo del coronavirus a Vasto, un nuovo caso che chiaramente il giornale scrive sospetto perché si attendevano i test di verifica. Ebbene, i test e i risultati sono arrivati. L'uomo di Vasto, ricoverato attualmente in isolamento all'ospedale San Pio della città, è risultato positivo al Covid-19, secondo il test eseguito nel laboratorio di riferimento, che è quello di Pescara, per quanto riguarda la regione Abruzzo. Il campione è stato naturalmente inviato, come da prassi, all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi che dovranno dare il risponso definitivo. Questo è quanto comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della regione Abruzzo. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, informato dalla regione, ha disposto la chiusura per quattro giorni del polo liceale Raffaele Mattioli. Infatti il paziente è una unità del personale di questa scuola. Durante la chiusura in vigore da oggi e fino a sabato, sarà effettuata la senificazione della struttura, secondo le disposizioni normative vigenti. Il sindaco Menna invita la cittadinanza a seguire le norme di prevenzione diramate dal Ministero della Salute, per evitare il diffondersi di notizie non ufficiali che possono generare del panico. La situazione è sotto stretto controllo ed è scrupolosamente gestita secondo i protocolli di legge. Questo quanto dichiarato a Lanza dal primo cittadino di Vasto, Francesco Menna. Dunque la notizia della conferma, questa prima conferma del virus a Vasto con l'uomo che era sospettato. Invece il laboratorio ha dato esito positivo, quello di Pescara 6. Dunque i casi positivi nella nostra regione, più adesso si aggiunge anche quello di Vasto e sono 7, 78 i test negativi, compreso quello di Trasacco e quanto scrive il centro al report della situazione attuale sul coronavirus. Eventi a rischio salta anche Juve Milan per quanto riguarda la Coppa Italia, sport verso le porte chiuse. L'idea è quella di interrompere per 30 giorni in Italia tutte le manifestazioni, anche quelle sportive. La partita tra Juve e Milan, semifinale di Coppa Italia, si sarebbe dovuta giocare questa sera. Poi l'economia, i 7,30 che slittano a settembre e ci sono anche altre misure sul fisco, il decreto, lavoro da casa. Ecco quando si può fare, poi andremo a vedere anche i quotidiani nazionali per approfondire questi temi. Andiamo a Pescara adesso, una microspia nell'ufficio di De Cecco, aperta un'inchiesta dopo la denuncia dell'imprenditore sorvegliato di nascosto. Poi ancora domani i funerali, morto a 72 anni Gorgoretti, storico docente del Da Vinci, paura a San Giovanni Tiatino per un albero crollato sulla strada che ha bloccato la Tiburtina per ore. Oggi la scelta Pescara, Viale Marconi, il progetto è in bilico per quanto riguarda la terza corsia. Nel taglio basso troviamo il calcio di Serie B, il Pescara in piena emergenza, assenti tanti titolari. Oggi però si decide se giocare a porte chiuse sul campo dello Spezia. La partita è in programma questa sera alle ore 21, chiaramente la situazione è in divenire e noi vi renderemo conto di tutto quanto accade anche per questa partita. Se si dovesse giocare a porte chiuse che in maniera regolare, questa sera ci sarà anche la trasmissione diretta a stadio. Poi Ferrovie, Pescara-Roma, sia il progetto che costerà 1,9 miliardi. Questa è l'altra notizia sulla prima pagina del centro edizione di Pescara. Andiamo a vedere adesso le altre edizioni, più rapidamente perché come vi ho detto il taglio centrale del giornale è praticamente il medesimo su tutte e quattro le edizioni provinciali. Dunque non ci torniamo, andiamo direttamente nella pancia di questa prima pagina. La Corte dei Conti contro il Comune, i magistrati, controlli inadeguati su atti e servizi. Ora i politici rischiano le multe a Chieti. Poi ancora Corsa Sindaco, pronto di Paolo per quanto riguarda le prossime amministrative. Ortona, addio a Gabriele Galletta, muore a 58 anni il cugino e collaboratore di Siffredi. A San Salvo, cocaina, eroine e banconote, scoperta la casa dello spaccio. Andiamo a vedere poi nel taglio basso, notizia che abbiamo visto anche in precedenza, spiato il re della pasta De Cecco, una cimice all'interno del suo ufficio, è stata aperta un'inchiesta. Poi la strada frannata da sei anni a Chieti, nessuno interviene per il capoluogo teatino. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Teramo. La protezione civile rimborsa il Braga, 270 mila euro a favore del conservatorio per i cambi di sede causati dal terremoto. A Colonnella TR arrivano i carabinieri nel presidio dei lavoratori davanti all'azienda. Omicidio di Silvi, confermata l'accusa al figlio della vittima, indagini chiuse a Mosciano. Il Tar dice no alla sospensiva per l'iter del biodigestore. Andiamo a vedere nel taglio basso Teramo, ospedale a Villa Mosca, raccolte 3 mila firme. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro. Anche qui ritroviamo il titolo di apertura e tutto ciò che accompagna il tema del coronavirus, con le misure straordinarie, lo sport in bilico per quanto riguarda soprattutto il calcio. Poi andiamo avanti con le notizie invece dall'Aquilano. PM la corruzione c'è ma è prescritta. Processo puntellamenti all'Aquila, requisitoria sugli ex assessori Tancredi, Riga e Placidi. Poi ad Avezzano sbarca l'azienda Exus e porta 200 posti di lavoro a Sulmona. Nuove case popolari dell'Ater destinate a 56 famiglie. Poi l'Aquila, credito alle imprese, arrivano 23 milioni. Nel taglio basso ad Avezzano la prefettura boccia il semaforo da incubo. Lasciamo il quotidiano Il Centro. Adesso ci spostiamo, come vedete, sulla prima pagina del messaggero edizione Abruzzo. Il titolo d'apertura è sulla politica, Regione lo strappo della Lega. Consiglieri e assessori lasciano l'aula alla base della crisi della maggioranza di centrodestra. Il caso nomine è la scelta del candidato a sindaco a Chieti. Il Movimento 5 Stelle indossa una t-shirt con scritto poltrona virus. Poi Pescara, grande infornate in comune, 100 assunzioni nell'ente. Entro il prossimo anno, dunque, questi nuovi posti di lavoro pubblici al comune di Pescara. Poi andiamo a vedere l'emergenza Covid-19. Decisivi i piccoli ospedali. Ieri l'informativa del governatore Marsilio in Consiglio regionale. Cresce l'esigenza di posti letto, mentre attività cinesi, imprese con cantiere al nord e turismo, cominciano a scontare le conseguenze di questa emergenza. L'Abruzzo affronta i nodi sanitari ed economici. Poi De Cecco, le liti in famiglia nate dal caso Fattori. La vicenda della D, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, alla base delle divergenze. Il delitto di Silvi, meccanico ucciso, il figlio Giuseppe, verso il processo. A quasi nove mesi dall'uccisione del meccanico di Silvi, Giovanni Di Martino, la Procura ha chiuso le indagini. Unico indagato è il figlio Giuseppe. Di spalla l'eccidio di Lentella, alla cerimonia ci sarà anche il Premier Conte, i due operai uccisi nel 1950, il Premier il 20 marzo nel centro vastese. Nel taglio basso Pescara-Roma, il treno accelera, patto ferroviario firmata all'intesa tra le due regioni. Poi la diffida, traforo, nuovo rischio chiusura, il MIT messa in sicurezza entro il mese di aprile. Andiamo a vedere nel taglio alto le altre notizie. L'Aquila rinasce, maxi appalto da 200 milioni per la zona del Torrione. Inchiesta Do-Ut-Des, tangenti post-sisma all'ex vice-sindaco dell'Aquila, verso l'assoluzione. Poi il calcio di Serie B, il Pescara in casa dello Spezia, test decisivo per le grottaglie. I Biancazzurri giocheranno stasera alle ore 21 a porte aperte, ma come abbiamo letto c'è anche l'incognita porte chiuse per questa partita. Si deciderà in mattinata. I Liguri sono la quarta forza del campionato. Pescara senza Zappa e Memusciai. Andiamo a vedere poi la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, nuove misure per fronteggiare il virus. Approvati ieri in Consiglio regionale, Marsiglio rassicura. Tutti i casi sono circoscritti e monitorati. A centro pagina i dati della balneazione. Dopo quattro anni i dati tornano a peggiorare. Un passo indietro nella qualità delle acque. Poi andiamo a vedere nel taglio alto sotto la testata. Il Consiglio sulle nomine salta tra le polemiche per la spaccatura nel centro-destra maggioranza di governo. Poi le altre notizie. Roseto, casello riaperto. Tutta Roseto tira un sospiro di sollievo. L'intervento, dubbi sui sequestri lungo le autostrade. La Ciancaione, ancora da Roseto, chiede di eliminare la tassa di soggiorno per dare una mano agli albergatori in difficoltà. I pazienti ricoverati a Teramo sono in ottime condizioni. La buona notizia che riguarda sempre il coronavirus. Poi via l'abbattimento dei pini pericolosi a Giulianova. Interventi iniziati sugli alberi di Via Veneto. Scendiamo nel taglio basso. Il forum dell'acqua c'è il rischio di chiusura per il traforo del Gran Sasso. Per quanto riguarda il calcio, il Teramo, dunque la Serie C, i play-off. Tutto quasi si decide nei prossimi 17 giorni. Andiamo a vedere le prime pagine nazionali. Approfondiamo con i quotidiani italiani quello che sta accadendo nella nostra nazione su questa emergenza coronavirus. Il titolo di apertura del Corriere della Sera, virus, nuove regole in tutta Italia. Distanza di un metro tra le persone, niente baci e strette di mano. Stop agli eventi. Calcio a porte chiuse per un mese. I contagiati sono 2.263, le vittime 79 e 160 i guariti. Conte, non esclusa la chiusura totale delle scuole, si è chiesta dagli esperti. Tensione con Salvini per quanto riguarda soprattutto le misure economiche che il Carroccio definisce insufficienti. Poi l'intervista al commissario dell'Unione Europea, Gentiloni. Roma non sarà sola e ora pensi al rilancio. Queste le parole del commissario europeo all'economia, ex premier del nostro paese Paolo Gentiloni, così al Corriere della Sera. L'Italia non sarà lasciata sola in questa fase delicata, vanno usati gli strumenti per difendere la crescita e il lavoro. L'emergenza poi, il caso a Milano, test positivo per due giudici delle tribunali, sospese le udienze civili non urgenti. Il primario di Lodi, non c'è tregua e qui nessuno si tira indietro, chiaramente il lodigiano è in prima linea nel combattere questa emergenza. Poi gli editoriali, Barbara Stefanelli, il rispetto dei fragili, il titolo e poi Massimo Franco, lo scatto che serve sulle polemiche politiche e le misure anti coronavirus per quanto riguarda l'economia. La Fed intanto taglia i tassi, Trump dice non basta, la mossa per sostenere l'economia da parte della banca centrale statunitense, taglio dello 0,5% di mezzo punto dunque dei tassi di interesse. Il voto in Israele, il premier vince ma resta il rebus maggioranza, fenomeno Netanyahu, essere leader da 25 anni. La prima volta da premier fu nel 1996. Andiamo a vedere la Repubblica, il titolo di apertura, meno contatti, meno contagi, salutarsi da lontano e senza baci. Le raccomandazioni a tutti i cittadini per frenare l'epidemia, Bergamo ricoverato un neonato, piano per allargare la zona rossa, no a Juve Milan di Coppa Italia. Il governo studia l'ipotesi di giocare le partite a porte chiuse per un mese, la Fed taglia i tassi. Emergenza virus al Tribunale di Milano, intanto due positivi, due magistrati come abbiamo detto anche in precedenza. Andiamo a vedere le altre notizie, gli approfondimenti. Racconto una capitale in esilio Milano, poi il punto, quanto è stretto il sentiero comune, scrive Stefano Folli. L'intervista al ministro dell'istruzione, Azzolina, aiuti alla maturità, niente ma niente sei politico, poi oltre la paura cerchiamo la cura per restare umani, è l'articolo di Alessandro Bergonzoni. Poi andiamo a vedere la fotonotizia, il silenzio dell'Europa sulle violenze alle frontiere, l'Unione Europea respinge i migranti, Grecia il nostro scudo. Così Ursula von der Leyen in visita al confine con la Turchia, una chat svela l'inganno di Erdogan ai profughi. E qui vedete proprio la foto del Presidente della Commissione Europea al confine fra Turchia e Grecia. Proseguiamo sul messaggero. Il titolo di apertura rinunce, limiti antivirus. Oggi il decreto per tutta Italia, distanze di sicurezza e stop a stadi e congressi, ipotesi, scuole chiuse, le regole, niente baci e strette di mano. Anziani a casa, contagiati 2.502, 79 morti e 160 guariti. Oltre all'effetto Wuhan, l'economia globale era già in crisi, ora cambierà, secondo Giulio Sapelli. Poi andiamo a Roma, altri 5 casi stretta negli ospedali, più test per i pazienti, si allunga la scia del poliziotto, ma negativi tutti i richiamati da Tor Vergata. Il caso Capannelle per quanto riguarda la capitale. Poi andiamo sul tempo, emergenza coronavirus, Italia a porte chiuse. Conte adesso fa la cosa giusta, il governo prepara lo stop alle manifestazioni per un mese. Chi ha un po' di febbre deve rimanere a casa, non ha braccia strette di mano, giro di vite anche sullo sport, il campionato di calcio dovrà giocare senza tifosi. Sulla stampa Italia in quarantena per un mese, questo è il titolo di apertura, le raccomandazioni degli scienziati, le abbiamo già viste, pioggia di richieste di rimborsi verso il decreto bis. La Lombardia, il governo, tutta la regione, zona rossa economica. Intanto l'epidemia non si ferma, la Bergamasca potrebbe diventare una nuova area of limits. Poi, nessun aiuto ai giallorossi, l'opposizione scommette sul disastro, scrive Marcello Sorgi, sulle polemiche politiche di cui abbiamo parlato poco fa, fra soprattutto Salvini e il governo. Il Super Tuesday in America, Trump-Sanders, la sfida che piace al Cremlino, l'articolo che arriva ad oltreoceano. Il Super Tuesday per le primarie, per scegliere il candidato che i democratici contrapporranno al conservatore Donald Trump, presidente uscente. Oltre il 30% dei delegati, per quello che viene denominato il Super Tuesday. Andiamo a centropagina con la fotonotizia. Fede in Dio e famiglia, così Putin riscrive la Costituzione. Questo è l'articolo dalla Russia. Il mattino di Napoli, virus, giro di vite per tutti, è il titolo di apertura. In Campania è infetta, ma non lo sa, va in ospedale. Quarantena per 25 sanitari ad Avellino. Poi ancora andiamo a vedere lo sport, Olimpiadi, idea, rinvio, caos calcio, Napoli-Inter in bilico, Barça, rischio, gara. Senza pubblico bisognerà vedere cosa si deciderà a livello europeo. Poi il secolo.it, il titolo di apertura, il virus dello ius soli. Nell'Italia nel panico la Camera torna a parlare di cittadinanza agli stranieri. Andiamo sul manifesto. Il titolo di apertura, come sempre da tradizione sulla fotografia, il contagio del lavoro. L'intervista è al segretario della CGL, Maurizio Landini. L'esempio di medici e infermieri fa capire l'importanza dello stato sociale. Usiamo l'emergenza per cancellare l'austerità. Ammortizzatori per tutti, anche per gli autonomi. Fed, giù i tassi. Il G7, pronti ad agire. È chiaro che questa epidemia globale richiede anche uno straordinario impegno da parte di tutti gli stati che fanno parte, soprattutto dell'area più industrializzata. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Titolo di apertura, Crema, Lazzaretto di Milano, lasciati soli dalla regione. Il medico e assessore Galmozzi preservano il capoluogo, ma abbiamo sette posti di terapia intensiva e zero infettivologi. Aumentano i morti, Bebe infetto, Bergamo, tra virgolette, rossa e focolaio. Poi Salvini, mezzo no a Conte, ma Meloni e Forza Italia lo lasciano solo sulle misure economiche. Il best seller sull'epidemia, l'uomo o il pipistrello per quanto riguarda la diffusione e la partenza, soprattutto di questo virus. Poi ancora Banca Italia, le regole patacca sui banchieri sotto inchiesta. In arrivo il tanto atteso decreto è un mezzo blef, secondo il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche Libero. L'infezione crea l'unità d'Italia, virus alla conquista del sud. 30 infetti in Campania, 11 nel Lazio, 5 in Sicilia e 6 in Puglia. Ora sì che siamo tutti fratelli. Finita la caccia all'untore del nord. Emergenza in Lombardia, 55 morti. Si allarga la zona rossa. Appello del governo, nonni, state a casa e non toccate figli e nipoti. La verità, il titolo di apertura, siamo nelle mani di questi qua e per questi qua sono intesi Roberto Speranza, Roberto Gualtieri e Vincenzo Spadafora per quanto riguarda il governo. Questo è il titolo sulle nuove misure. Il sole 24 ore si torna a parlare di economia e in particolare di quello che accade negli Stati Uniti contro l'incertezza terapia d'urto della Federal Reserve. Politica monetaria, tassi tagliati dello 0,5%, il doppio rispetto alle attese. Il G7 via gli stimoli economici. Wall Street vende sulla notizia. Persi quasi 3 dei 5 punti guadagnati lunedì. La mossa di Powell, effetto sorpresa ma opaco. Il giudizio che troviamo sul sole 24 ore a Francoforte o la BCE deve inseguire ma ha meno margini. I tassi in Europa sono già bassissimi. Poi l'intervista a Tidio Ventura. Un piano Marshall contro la crisi è quello che si chiede in questo momento di difficoltà. Made in Italy e piccole e medie imprese. Un piano straordinario con 716 milioni. Vin Italy che slitta a giugno. Questo per quanto riguarda il coronavirus e i suoi effetti sull'economia. Anche il CIBUS verso il rinvio. Unione Europea e Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli alimentari non trasmettono il virus. Questo è importante da sottolineare. Allarme nella Bergamasca per l'impennata dei contagi. Si valuta una nuova zona rossa. Questo per quanto riguarda il sole 24 ore. Andiamo su avvenire. Cambiamo tenore dell'apertura sulla pelle dei profughi. Il titolo. I rifugiati vittime del braccio di ferro fra Ankara e Bruxelles. L'Unione Europea sposa la linea greca. Promessi soldi e mezzi militari per sigillare i confini. Alcune parlamentari chiedono corridoi umanitari. L'editoriale. Questa è una crisi di umanità. È l'articolo di Marina Corradi a Corredo. Scusate il gioco di parole di questa notizia. Poi in Niger. La nuova frontiera a sud. Il reportage nel deserto tra Passer e chi salva i migranti dai viaggi della morte. Poi il coronavirus a centropagina. La zona rossa rischia di allargarsi. L'ISS sta valutando se chiudere anche la Bergamasca per limitare i contagi. Cala il ritmo di crescita dei malati ma preoccupa la saturazione degli ospedali. Serve un'altra stretta. Come abbiamo ripetuto più volte, le misure prese servono soprattutto a limitare i contagi per evitare che si vada a caricare troppo il sistema sanitario nazionale e gli ospedali. Andiamo adesso nei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura. Porte chiuse con il punto esclamativo. Il governo vara una terapia shock antivirus e interviene sugli stadi. Lo sport senza pubblico per un mese in tutto il paese. ma Juve-Milan di Coppa Italia viene rinviata e qualcuno addirittura ipotizza uno stop completo del campionato che potrebbe terminare così. Zang non molla le polemiche nel calcio. Non si giocherella con il calendario. Salute e sicurezza sono al primo posto. Così il patron dell'Inter. Poi ancora riecco l'uomo ragno. Cagliari chiama Zenga. Sostituisce Maran sulla panchina dei Sardi. Boban va via. E Maldini già pronti due sostituti. Ribaltone nel Milan. Il direttore tecnico sta riflettendo sul da farsi. Poi ancora forza mamma. Cristiano e la signora Dolores colpita da un ictus. CR7 vola a Madeira. Ancora nel decreto le proposte della commissione scientifica per la chiusura degli stadi. Le partite si dovrebbero giocare a porte chiuse. Il condizionale è d'obbligo. Andiamo a vedere adesso il Corriere dello Sport. Il titolo di apertura Inter spacca tutto. Il prefetto di Torino ha rinviato la semifinale di Coppa Italia. Vietata dunque Juve-Milan. Invece per quanto riguarda le polemiche. Marotta sfida la Lega. Prima con la Samp. O si va in giudizio. Gli scienziati dicono Sport per un mese a porte chiuse. Il governo prepara un decreto con misure di sicurezza più rigorose per evitare assembramenti e dunque contagi. La decisione dopo un lungo vertice. Ipotesi di giocare Napoli-Inter senza pubblico domani al San Paolo. Questo per quanto riguarda ancora le decisioni. E Zang è stato deferito alla Procura federale per le offese ad Alpino. Oggi ci sarà l'assemblea molto attesa perché si attendono delle decisioni dal mondo dello sport. Poi andiamo su tutto sport. Il titolo di apertura a porte chiuse anche qui. Un mese senza tifosi per l'emergenza coronavirus. Forza mamma Dolores con la madre di Ronaldo colpita da un ictus cristiano e volato a Madeira per starle vicino in ospedale. Le sue condizioni sono stabili. Grazie a tutti per il sostegno. Ha scritto il campione. Poi Juve-Milan rinviata ieri alle 21.30 la decisione del prefetto per la partita di Coppa Italia. Data da destinarsi. Inter e Lega scontro totale. Abbiamo visto lo scontro tra Adalpino e Zang. Poi Zazza sei fuori. Fallaccio su Edera. Che spavento. Il Toro e la concorrenza in attacco. Il Cagliari sceglie Zenga. Canzi è il vice per quanto riguarda la panchina dei Sardi. Poi Davide sei sempre con noi a due anni dalla scomparsa di Davide Astori. Dunque queste anche le notizie sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Adesso noi ci fermiamo per il break. Poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sul coronavirus il centro scrive la situazione in Abruzzo con un nuovo caso sospetto. Questa volta è a Vasto. In realtà è arrivata la conferma per quanto riguarda la città del Vasto. Il caso è positivo. Questo secondo il campione analizzato nel centro di riferimento regionale a Pescara. L'uomo è in isolamento all'ospedale Sampio della città. Il sindaco Menna ha disposto la chiusura per quattro giorni del polo liceale Raffaele Mattioli dove l'uomo ricoverato lavorava. La chiusura da oggi fino a sabato consentirà la sanificazione della struttura. Situazione sotto controllo, dice il sindaco a Lanza per quanto riguarda la città. Ma torniamo sul giornale. Andiamo a vedere che cosa scrive il centro sul consiglio regionale di ieri sulla emergenza coronavirus. Marsilio, da noi non c'è una escalation. Aiuti alle aziende. Passa la proposta della Lega. Volo Milano-Pescara. Arrivano le date per il ripristino. Poi nel taglio basso Caruso. Togliamo IMU e Tari 2020 alle aziende. del presidente di UPI, Unione delle Provincie Abruzzesi a Marsilio. Convinciamo insieme il governo a sostenere le imprese. Le altre notizie. Lavorare da casa. Ecco quando è possibile. Il nuovo decreto prevede tre casi per i dipendenti. Nessun esonero per chi ha solo paura del contagio. Il primo caso riguarda l'impossibilità per il lavoratore di svolgere la propria prestazione lavorativa. Il secondo è la possibilità di richiedere permessi e ferie che potranno essere concessi e negati per i motivi previsti senza che il lavoratore possa rilevare il timore del contagio. Terzo punto previsto nel decreto. L'impossibilità di prestare la propria attività lavorativa a causa del divieto di accesso in determinate zone. Poi ancora addio a sei prenotazioni su dieci. Il turismo sta crollando. Confindustria Chieti Pescara traccia un bilancio nero degli effetti dell'epidemia. In cassa integrazione gli operai delle imprese abruzzesi con cantieri al nord. Fra poco andremo a vedere proprio questo servizio. Intanto via libera anche al microcredito. Scendono in campo tutte le sigle associative degli artigiani con questa proposta. Continuiamo con il coronavirus. Andiamo sul messaggero. L'epidemia in Abruzzo. Decisivi per l'emergenza. I posti nei piccoli ospedali. Cresce l'esigenza di letti. Veri critica agli effetti del decreto Lorenzin. In attesa febbrile sui dati rischio psicosi. Caso all'Italia. Marsiglio scrive al ministro De Micheli. Roseto e Trasacco attendono i riscontri sulla famiglia di Brugheri e sul ricoverato ad Avezzano. Sono 85 tamponi complessivi eseguiti negativi. Quelli all'Aquila. Atteso il risponso per gli ultimi con vasto risultato positivo. Pescara. Ricettività al limite. Timori per la rianimazione. Ibin. Stop di un mese. Colpo alle attività cinesi. E poi stampella per le imprese abruzzesi in zona rossa. Andiamo a vedere poi il coronavirus sulla città. Assunzioni straordinarie. Cabina di esperti. Febbo Furioso per la cancellazione dei voli per Milano. E poi la proposta di Roseto di eliminare la tassa di soggiorno. Andiamo a vedere insieme il servizio che vi ho annunciato prima. Che riguarda la conferenza stampa di Confindustria. Sugli effetti negativi del coronavirus sull'economia e sul turismo. Da una parte una task force con Confindustria nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e garantire i propri dipendenti. Ma dall'altra Confindustria Pescara Chieti ha denunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa anche le conseguenze derivanti a livello economico per le nostre aziende che ha portato per esempio nel settore turistico la cancellazione di meeting e pernottamenti. Beh allora le difficoltà sono quelle che già avete potuto vedere perché sono quelle di carattere nazionale. Qui non abbiamo situazioni diciamo diverse. Se non altro non abbiamo ancora zone rosse quindi questo c'è di conforto ma questo non deve assolutamente come dire tranquillizzarci. Anzi questo tempo che abbiamo a disposizione come avete sentito poco fa dalla conferenza stampa deve servire a mettere in atto una serie di azioni di monitoraggio per capire anche come rispondere nel migliore dei modi. L'ho detto e lo ripeto perché è una cosa la quale tengo in maniera particolare. Per noi combattere il virus è la prima azione economica perché vogliamo sottolineare l'importanza dell'aspetto sanitario perché prima di tutto c'è l'aspetto sanitario. Dobbiamo però a mio avviso reagire in un'ottica di pensiero sferico, di affrontare il tema a 360 gradi perché più temi concorrono a questa crisi. Quindi dobbiamo avere la capacità di vederla in maniera globale. La task force alla quale si faceva prima riferimento ed evidentemente la task force a livello nazionale fatta da Confindustria e in contatto con la Farnesina sono azioni che vanno proprio nel senso di capire come limitare i danni e come lo stiamo portando avanti, cosa stiamo facendo per limitare questi danni. Stiamo cercando di capire quali sono gli impatti economici, quindi anche il sostegno economico da dare alle aziende anche in termini di fiscalità, tutti gli aiuti possibili. Abbiamo sentito prima anche il direttore Giuseffatte sul tema della cassa integrazione laddove c'è necessità di andare incontro alle imprese che stanno in sofferenza proprio dovuto al fatto che questa continuità produttiva non può essere mantenuta in alcune località e anche capire meglio come questo impatto le zone rosse e quindi mi riferisco anche al mercato interno non ci dimentichiamo che in quella zona dell'Italia c'è una parte molto importante e produttiva che riguarda un po' tutta l'Italia e quindi anche un effetto indiretto che comunque anche se non immediatamente visibile ma c'è. In questi giorni di angoscia generale da coronavirus è di grande conforto per tutti sapere che all'ospedale Mazzini di Teramo esiste un reparto malattie infettive all'avanguardia nazionale con sette camere a pressione negativa in una struttura modernissima ed efficiente. Al Mazzini appunto è ricoverata la famiglia Lombarda in vacanza a Roseto con il papà per primo positivo al covid-19 e poi la mamma e uno dei loro due figli solo la bimba di 4 anni è ancora negativa, le loro condizioni sono più che buone soprattutto l'uomo è praticamente guarito, a giorni effettueranno un ultimo tampone di controllo a dirigere il reparto infettivi così pieno di sole perché situato nell'antico sanatorio terramano circondato da una pineta secolare, il primario Pierluigi Tarquini il personale tutto è tranquillo, sicuro, preparato ad ogni emergenza. Cosa succede quando arriva un sospetto contatto o un sospetto contagio al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo? Quando un pre-triage, quindi il paziente che denuncia di avere febbre e sintomi delle vie respiratorie viene separato dagli altri in questo tendone è avviato ad un altro percorso che si conclude poi chiamando noi e quindi poi noi siamo pronti a intervenire facendo venire il paziente il nostro triage. In quella stanza possiamo sottoporlo anche a un RX, quindi possiamo fare raggio al torace e scoprire se è una polmonite, dopodiché si valuta se ricoverarlo oppure rimandarlo a casa. E viene accolto da tutte le persone mascherate? Eh sì, il problema è quello perché la persona può spaventarsi perché noi chiaramente dobbiamo tutelarci per tutelare gli altri, quindi c'è un corredo di abbigliamento che dobbiamo indossare e vestizione e svestizione sono cose complicate, difficili perché se si fa male ci si può contaminare. Voi eseguite anche il tampone? Certamente sì, fino ad ora ne abbiamo fatti almeno 14 che vengono inviati secondo linee guida regionali a Pescara, poi Pescara fa riferimento all'Istituto Superiore di Sanità. Il reparto infettivi dell'ospedale di Teramo è ricoverata la famiglia Lombarda che è vissuta a Rosetta per qualche giorno, come stanno? Stanno benissimo, stanno molto bene, la mamma soffre la situazione psicologicamente, il marito sta molto bene pure. Quasi guarito? Io penso, siccome oggi è la settima giornata, posso cominciare a pensare di fargli i tamponi di controllo. Poi c'è stata una gara di solidarietà dei terramani? Veramente fantastica perché si era verificato il problema dei pannolini, sono usciti senza pannolini per la piccolina di 4 anni e non ce l'avevamo qui in ospedale, quindi io ho scritto, ho risposto su un social media a un amico che chiedeva se poteva fare qualcosa e da lì si è scatenata una gara di solidarietà. Ed è opinione generale che se il sistema sanitario italiano ha retto così bene a questa pandemia da coronavirus, il merito va proprio agli ospedali più piccoli, quelli di provincia come Teramo, avamposti fondamentali per trattare e arginare questa nuova malattia e in futuro anche altre simili. Quanto è importante un reparto di infettivi anche in un ospedale di provincia come quello di Teramo? Noi siamo sostanzialmente la prima barriera tra i cittadini e le malattie strane che possono arrivare in importazione, quindi noi abbiamo fatto prima di oggi un grandissimo lavoro sugli immigrati, diciamo chi ha accolto gli immigrati siamo stati noi, quindi abbiamo diagnosticato le tubercolosi, le patiti, l'HIV e abbiamo posto rimedio, abbiamo messo sotto terapia le varie persone, abbiamo ricoverati e la cittadinanza non si è accorta di nulla, spero che la nostra opera qualcuno invece la veda, la riconosca. E dunque dopo questa ampia pagina dedicata al coronavirus cambiamo argomento almeno sui giornali con la politica, la Lega di Serta all'Aula nomine caso Chieti alla base della rottura, la frattura nel centrodestra, siamo sul messaggero, esplode la tensione con Fratelli d'Italia e Forza Italia sulla designazione di Di Stefano e Gatti e la terza rottura in appena un anno nella coalizione che sostiene Marsilio. Poi le t-shirt polemiche dei 5 Stelle con scritto poltrona virus avviano la polemica con la maggioranza che replica con testa. Poi ancora i trasporti Pescara-Roma in meno di due ore, il patto ferroviario fra le regioni con i due governatori firmano anche governo RFI, treni più veloci anche sulla linea per l'Aquila. Andiamo a vedere sul centro la pagina Abruzzo, il potenziamento della ferrovia, patto per velocizzare la Pescara-Roma, firmato l'accordo fra Abruzzo e Lazio, il ministero delle infrastrutture RFI in ballo un progetto da 1,9 miliardi. La Lega esce in blocco, saltano le nomine, il Consiglio va in scena, lo strappo nella maggioranza, il Movimento 5 Stelle indossa le magliette con la scritta poltrona virus. Andiamo a vedere adesso sempre sul centro le pagine di Pescara. Inchiesta della Procura Microspia nell'ufficio di De Cecco, l'industriale era sotto controllo. L'imprenditore della pasta sporto denuncia dopo la scoperta di una cimice nella sede di lavoro e intanto l'ex amministratore delegato Francesco Fattori indagato per aver diffuso mail riservate. Gli effetti in città, viaggiatori cauti, calo di presenza anche sui bus per quanto riguarda l'effetto appunto del coronavirus. La città del futuro, il vertice nuovo Viale Marconi a tre corsie, progetto in Bidicoggi ci sarà la scelta, Masci ha convocato la sua maggioranza per decidere. Andiamo avanti, addio a Gorgoretti, 72 anni, storico prof del Da Vinci, lutto a Pescara e ancora in tema di lutti è morto Iannascoli, raccontò la Serie A del 77, il pioniere delle radiocronache, speaker dell'Adriatico, aveva 86 anni. Albero cade sulla strada, paura tra gli automobilisti, San Giovanni Tretino, nessun danno né feriti, traffico bloccato sulla Tiburtina, disagi per il forte vento in tutta l'area metropolitana, Pescara chiude i parchi. Nelle pagine di Montesilvano, allarme degli ambientalisti, il fiume Saline senza pace, ora la minaccia è una frana, le falese d'Argiglia sono a rischio cedimento e potrebbero modificare il percorso. Il Movimento 5 Stelle torna a denunciare le discariche abusive di rifiuti pericolosi sulle sponde. Domani alla Camera, l'interrogazione sugli esuberi al Conad, la vertenza all'Iper di Città Sant'Angelo, al centro commerciale Pescara Nord rischiano il posto di lavoro in 65, in buona parte sono Montesilvanesi in campo, i segretari PD dei comuni interessati. Nella pagina successiva Città Sant'Angelo, un grande museo nell'ex manifattura, il comune è pronto ad accogliere la proposta di Italia Nostra. A Montesilvano redistribuite le deleghe in giunta, il sindaco ha ufficializzato i nuovi incarichi nella maggioranza. Andiamo avanti, bus per Roma, buona la prima, arrivo e partenza in 7 minuti. Francavilla, verificati i tempi per uscire dalla variante, scaricare e caricare i passeggeri sul mezzo, l'assessore Natale, la prova era un passaggio fondamentale a maggio. Diamo il via al collegamento. Nella pagina successiva, quella dell'area Vestina, Penne vuole un albergo, giù le tasse per chi lo apre, il bilancio con sgravi fiscali per chi rileva l'hotel dei Vestini e ne avvia uno nuovo all'assessore Petrucci, visitatori in aumento, ma mancano le grandi strutture. Poi scoperta di scarica abusiva vicino alle villette, denunciato dai carabinieri forestali il titolare di una ditta di costruzioni, i rifiuti interrati in parte. Ad Alanno, vittime credibili, il custode di Alanno abusò dei ragazzi. E poi nel taglio basso, lite fra fratelli ottantenni, condanna a sei mesi a Loreto Prutino, piano d'orta, venerdì la cerimonia, gli alunni piantano una quercia a scuola. Andiamo a vedere le pagine di Pescara sul messaggero comune, gli assunti saranno 100, queste le notizie che riguardano il lavoro e i concorsi pubblici, concorso bipartisan, premi ai vincitori e candidati idonei, ingressi dal primo di aprile, gli altri avranno il posto entro il 2021, vigili urbani bloccati dal TAR, appello al Consiglio di Stato, piano B per arruolare 15 agenti e altri 30 entro quest'anno. Poi ancora, alberi per i bambini mai nati, la mozione accende lo scontro tra pro e anti-aborto, movimenti femminili e giovani dem contro l'iniziativa, applaudi e la stampa cattolica, il vero nodo della 194 e l'alta obiezione di coscienza. Poi ancora, in fiamme, l'area rifugio dei tossici, alle 14.40 l'allarme dei residenti divorate dal fuoco, anche due moto, vigili e carabinieri sono arrivati sul posto. Nella pagina successiva, De Cecco, liti interne dal caso Fattori, la denuncia del manager e tra i motivi della guerra tra Filippo Antonio e i cugini, questo accade nell'impero abruzzese della pasta, molestie sessuali al convitto di Alanno, attendibili le accuse contro il custode nelle motivazioni della condanna, i veleni di Rosciano, sequestrata una discarica abusiva. Adesso andiamo nelle pagine di Chieti, di primio, bacchette i candidati, non sanno di cosa parlano, così il sindaco che sta per terminare la sua esperienza al comune dopo due mandati, da Fratelli d'Italia via libera su Chieti, dopo che Roma deciderà sulle richieste, nel centrosinistra Febo è pronto al sacrificio e giustizia sociale, dice no a tutti gli uscenti. Poi ancora il Movimento 5 Stelle, l'onorevole Torto attacca Di Stefano e De Cesare, questo per quanto riguarda le polemiche in campagna elettorale. Ancora la passeggiata del Cinghiale in centro, eccolo qui il Cinghiale, l'abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale ieri, questa passeggiata nella zona dell'ex San Camillo. Poi si è spento a Imola, fondatore dell'Aism, nella pagina successiva Cialfi, la sua moto per l'ultimo viaggio. Ieri i funerali del giovane morto domenica a Termoli per il ferretro all'uscita, lungo applauso e volo di palloncini. Don Gregorio, accompagniamo Marco alla vita senza fine, senza lacrime, senza sofferenza, ma con amore e vicinanza e noi possiamo andare a vedere questo servizio. C'è una delle sue moto accanto alla bara nella chiesa di San Pietro a Lanciano. A centinaia amici, conoscenti, parenti hanno partecipato al funerale di Marco Cialfi, 29 anni. Il giovane lancianese è morto sul colpo la mattina di domenica scorsa sulla tangenziale nord di Termoli. La sua Lancia Y andò a schiantarsi violentemente contro il guardrail di una piazzola di sosta dopo un sorpasso. Per accertare le cause del tragico incidente è a lavoro la polizia stradale di Termoli. A chiamare i soccorsi, sebbene sotto shock, fu l'ex fidanzata che viaggiava subito dietro con la sua vettura. Una morte improvvisa in attesa, quella del giovane operaio della Trigano Van con la passione delle moto che condivideva assieme ad uno dei suoi fratelli maggiori. Cordoglio e lacrime per la prematura perdita, in tanti si sono stretti al dolore della famiglia. Il padre Lucio, la madre Mirella e i fratelli Davide e Fabrizio. Nelle pagine di Chieti sul centro muore il cugino e il collaboratore di Rocco Siffredi, tragedia in casa, stroncato da un infarto Gabriele Galetta, 58 anni. Il dolore del porno divo che dice, la giornata più triste dopo la scomparsa di mia madre. Questo il suo messaggio. Ancora la Weatherford, la vertenza sugli 11 superi si sposta a Roma, incontro tra sindacato CGL, Ciswil e UGL e il sindaco di Ortona. Poi l'addio al 29enne morto a Termoli, l'abbiamo visto, moto in chiesa e palloncini. Marco è sempre con noi, chiesa di San Pietro, gremita per l'ultimo saluto all'operaio della Trigano Van. Poi i carabinieri guidano le auto sotto effetto dell'alcol, sei denunciati dai militari. Ancora il presidente Conte all'Entella. Il 20 di marzo sarà ospite del settantesimo anniversario dell'Ecidio e il sindaco Moro è un grande onore. Questo è il commento del primo cittadino. Andiamo adesso nelle pagine di Teramo. La situazione in provincia per il coronavirus. Roseto riapre oggi tutte le scuole e gli altri comuni le sanificano. Oggi l'operazione sarà effettuata ad Alba e domani a Tortoreto in entrambi i casi di pomeriggio. Teramo prende tempo, non vogliamo fare un'iniziativa solo di facciata, dice il sindaco, e intanto acquista i dispenser. Poi andiamo a vedere le altre notizie sulle pagine di Teramo. Appalto da un milione e mezzo per la scuola dell'infanzia di Pineto è il primo lotto del nuovo edificio di Borgo Santa Maria che costerà 2 milioni e 300 mila euro. Sarà in legno ed acciaio con tecnologie improntate alla sicurezza e al risparmio energetico. Nel taglio basso, Consiglio Comunale di Silvi, varato il regolamento dei comitati di quartiere. Il sindaco Scordella, il nostro obiettivo è garantire la partecipazione dei cittadini. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero. Coronavirus, negozi cinesi chiusi, regale ai bambini in isolamento, serrande abbassate e soprattutto a Roseto il motivo per arginare la diffusione. Il sindaco di Brugherio ringrazia su Facebook il Teramano che ha portato i doni in corsia. Disinfettanti nelle scuole, 33 plessi da sanificare. Negli uffici comunali si sta valutando la mobilità flessibile per le categorie a rischio. Poi ancora, andiamo avanti su questa pagina, lavori o traforo del Gran Sasso a rischio chiusura. Il gestore di Autostrada dei Parchi deve adeguare la galleria alle norme dell'Unione Europea. Se la regia è pronta possiamo mandare in onda anche questo servizio. Le gallerie dell'A24 potrebbero essere presto chiuse, causando quella che potrebbe essere una nuova emergenza viabilità. La Commissione Gallerie, struttura posta a sovrintendere la messa a norma delle gallerie stradali italiane, in una diffida del 12 febbraio di quest'anno parlerebbe della chiusura di 50 gallerie italiane. In Abruzzo chiuderanno le gallerie del Gran Sasso, San Rocco e Colle Castiglione sull'A24. Se entro aprile non verrà effettuata la messa in sicurezza. Le gallerie infatti sono in uno stato di degrado strutturale, con in alcuni tratti addirittura il distaccamento della volta. La norma del Decreto Legislativo 264 del 2006 fissava la data per la messa in sicurezza al 30 aprile 2019, ovvero 13 anni dopo il suo varo. E proprio ad aprile 2019 la società di Carlo Toto chiese il commissariamento del traforo del Gran Sasso per questioni legate all'inquinamento dell'acquifero e la giunta Marsilio, appena insediata, assecondò il concessionario. All'epoca nessuno sollevò la questione manutenzione, eppure la richiesta di commissariamento arrivò proprio allo scadere del periodo atto ai lavori. E i lavori, secondo la norma, sarebbero dovuti essere eseguiti a spese esclusivamente del concessionario, senza alcun onere per le casse dello Stato. Ad oggi sulle autostrade abruzzesi non sono ancora stati svolti tutti i lavori di manutenzione necessari. Dopo lo scandalo che ha coinvolto il viadotto del Cerrano, dell'A14, Autostrade per l'Italia, un altro concessionario, benché gli alti profitti, non avrebbe intrapreso tutte le azioni imposte dalla legge. Occorre specificare, inoltre, che le gallerie del Gran Sasso sono classificate quali gallerie speciali per la presenza dei laboratori di fisica nucleare, che a loro volta stoccano in maniera irregolare ben 2.292 tonnellate di sostanze pericolose. Andiamo avanti, sempre sulle pagine di Teramo, sul messaggero Giulianova Patrimonio, favorito Gatti per l'azienda più importante delle comuni, è quasi certo l'arrivo del candidato della regione alla Corte dei Conti, in corsa anche Fabrizio Quarchioni e Federico Iachini. Costantini dice, sì, è vero, Paolo è un mio amico da tempo, questo è il commento del sindaco di Giulianova. Poi l'inchiesta, uccise il padre architetto verso il processo per l'omicidio di Silvi e la morte di Giovanni Di Martino, unico imputato Giuseppe Di Martino, il figlio. Poi andiamo a vedere il taglio basso, il piano del traffico che mette al centro bici, pedoni e turisti, ad Alba. Notizie del Teramano ancora sulla città, l'ambiente passo indietro sulla qualità della balneazione, dopo quattro anni di recupero torna a diminuire la percentuale di tratti eccellenti, dal 72 al 68,5%. Poi ancora arriva il rimborso per i lavori al Braga e pari a 268.800 euro, di cui 147.000 circa per l'adeguamento funzionale, 121.000 per gli affitti. In provincia, in aprile, il traforo rischia la chiusura. Una diffida, l'abbiamo sentito, del 12 febbraio 2020 della Commissione Gallerie chiederebbe l'immediato adeguamento. Andiamo avanti. Tutta Roseto tira un sospiro di sollievo, soddisfazione bipartisan in città per il dissequestro delle barriere e la riapertura del casello autostradale di Roseto. Poi all'ospedale di Atri, tumore asportato con un intervento senza incisioni e senza anestesia, un'operazione di ultima generazione per una 86enne ricoverata nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Liberatore. Poi il nuovo polo dell'infanzia che diventerà realtà a Pineto, come abbiamo già visto, questa struttura innovativa e sicura dal punto di vista sismico. Prima di passare allo sport, andiamo nelle pagine dell'Aquila, sul centro. Appalti e mazzette, l'inchiesta Do Utdes, il PM, corruzione sì, ma è prescritta. Picuti chiede l'applicazione della norma per gli ex assessori Tancredi, Riga e Placidi e nove mesi per l'imprenditore Lago. Ancora, credito alle imprese, accordo da 23 milioni, convenzione Abrex Credit Fidri per 4.000 aziende, sottoscritta nella sede di Confartigianato. Nel taglio basso, ricercatori Intex, Febbo raccoglie l'appello. L'assessore regionale presta un incontro chiarificatore con tale Salegna. Ok, anche dalla FIOM. Lavoro ad Avezzano, investimento da 20 milioni, sbarca Exus, fabbrica da 200 posti, produrrà materiale per acciaierie. Subito 90 assunzioni con la prima linea, rilevato un vecchio stabilimento al nucleo industriale, la di Irusta. Saremo attivi da metà maggio, stiamo cercando per ai qualificati e tecnici laureati. Nel taglio basso, assolta la bancaria Donofrio, processo per un parcheggio mai costruito, fine dell'Odissea per l'Avezzanese. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero. Torrione, partono i lavori per riqualificare tutta l'area, completate le verifiche tecniche, l'appalto da 200 mila euro a sollevare la necessità di un rapido intervento. È stato il gruppo di azione civica Iemonnanzi. Poi ancora le altre notizie. Il coronavirus azzera viaggi e meeting a Gizie ed alberghi in grande crisi. Cali fino all'80%. Alcune strutture hanno messo in ferie i propri dipendenti. C'è chi ha messo su un blog per spiegare che è tutto tranquillo. Poi alle anime sante la benedizione delle penne per i 100 giorni all'esame. Il tradizionale raduno di San Gabriele è stato disdetto per evitare problemi con il coronavirus. Il vocale sulla donna affetta da Covid-19, una spirale comunicativa disastrosa. E poi incontro informativo col virologo maga all'Università dell'Aquila. Nella pagina della provincia Guerra sul ritorno del mercato in centro siamo ad Avezzano. Continuano le polemiche sul mercato. Andiamo a vedere le pagine dello sport. Siamo in chiusura di rassegna. Siamo sull'Abruzzo Sport del messaggero. Pescara con Spezia e l'esame trasferta. Rifinitura a Collecchio ieri pomeriggio per non affaticare troppo i giocatori, le grottaglie e soci. Stasera test decisivo contro la quarta forza del campionato. Bisognerà vedere se si gioca a porte aperte o a porte chiuse. I Liguri in casa sono una macchina da guerra per quanto riguarda gli avversari del Pescara che però potrebbero non avere il supporto del proprio pubblico. Boss GP parte l'avventura di Ponzio alla guida della Formula 1 Jaguar Racing R3. Il primo appuntamento sarà al Mugello per l'Abruzzese Riccardo Ponzio. Andiamo a vedere sul centro le pagine di sport, in particolare quelle che riguardano il Pescara. Ecco qui andiamo a vedere la doppia pagina. Alle ore 21 la partita fra Spezia e Pescara. Le grottaglie in emergenza, anche Busellato però va a K.O. Oggi si decide, come vi ho detto, se giocare a porte chiuse. Rinviate intanto Ascoli, Chievo, Lamezzala è out per influenza. Memuschiai è squalificato, Zappa e Delgrosso indisponibili. Torna Crecco. Avversari e curiosità. Liguri imbattibili in casa. Italiano, il Delfino però è forte. Lo Spezia non perde al picco da quattro mesi. Dubbio, Giasi di Gaudio in attacco. Il tecnico non si fida e dei biancazzurri possono mettere in difficoltà chiunque. Vedremo questa sera la partita del picco alle ore 21. Vi ricordo anche l'appuntamento con Diretta Stadio. In Serie C, Bombaggi non segna più. Il Teramo si inceppa. L'attacco del Teramo è spuntato. La sterilità offensiva dei biancorossi è evidente anche con Dimascio. La mezzala a secco dal 22 di gennaio. Viero salta la partita contro la Virtus Francavilla. Andiamo a vedere la Serie C anche sul messaggero. Teramo, quattro sfide prima del Tour de Force. Si inizia con la Virtus Francavilla domenica, poi Casertana, Bisceglie e Picerno. Dopo match con squadre di altra classifica come Ternana, Bari, Regina e Catania. Il pezzo sul Teramo anche sulla città. Playoff tutto quasi nei prossimi 17 giorni. Siamo alla fase decisiva della stagione. Quattro turni di campionato, compreso l'infrasettimanale del 25, possono essere decisivi nella volata per un posto nei playoff. Viero va verso il Forfè anche domenica. Minelli ancora a parte, questo per quanto riguarda l'infermeria del Teramo. Chiudiamo la nostra rassegna nelle pagine di sport con il centro. Bucceroni, gol a grappoli, la svolta con Simonetti, il bomber dei dilettanti. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Micichè, la doppietta al Delfino, Valle Laggancio, Ammiani in vetta, l'eccellenza con la promozione. Poi Maisto consolida il primato e tiene a distanza di Blasio. Poi ancora il basket, Roseto torna in campo lunedì, trasferta a Ferrara. E la Serie B, Adriatica Press giocherà sabato, l'esa martedì a Rimini. Completiamo anche il messaggero, l'eccellenza Lanciano. Micichè, felice per la doppietta. Bomber da record con 21 reti segnate in campionato. La promozione, l'Aquila di Genoa, ora obiettivo punti per la squadra del capoluogo. Il volley di A2 si eco, torna il pubblico contro la Chemas. Noi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. E questa sera vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con Diretta Stadio per Pescara Spezia. È tutto, grazie ancora e buona giornata.